Oggi è un grande avvenimento, dopo in breve tempo è stata restaurata la sacrestia e rinnovata, è messa a nuovo anche la chiesa interna. Sì, è veramente un giorno di festa per tutti noi parrocchiani in Santa Maria, nell'arco di due anni dopo l'incendio siamo riusciti a compiere una cosa di cui non speravamo neanche, cioè realizzare i lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza di tutti i locali della sacrestia con il rifacimento del pavimento e poi noi come associazione ci siamo impegnati per la parte più prettamente artistica al restauro delle presbitele e della navata con gli affreschi, gli stucchi, i marmi e poi delle statue e dei quadri che sono presenti nella nostra chiesa. Devo ricordare che nella sacrestia abbiamo restaurato anche i tre mobili che si sono salvati dall'incendio che il risultato poi lo vedrete direttamente da voi. Oggi ci saranno presenti autorità religiose e civili? Abbiamo presente il nostro vescovo, ci sarà il sindaco, abbiamo altre autorità, la sovrintendenza, belle arti? Belle arti, quindi noi speriamo veramente in una grossa festa e in un grosso apporto di pubblico perché Santa Maria se lo merita. Infatti poi seguirà in questi giorni la grande festa dell'assunta e quindi siete tutti invitati anche a partecipare a questa manifestazione. Grazie e buon assunto. Grazie a voi, grazie a voi di tutto. Grazie a voi. Buongiorno a tutti e grazie. A nome dell'associazione Santa Maria del Tambo che ho l'ora di rappresentare e a nome di tutti i soci della nostra associazione per aver voluto essere presenti in questo lieto giorno insieme al nuovo popolo di Santa Maria a questa festa per ammirare i lavori di restauro eseguiti nella nostra splendida chiesa che in salio in seguito a quanto è successo poteva andare persa e invece proprio a partire da quel devastante incendio è rinata a nuova vita. Grazie quindi al nostro vescovo, suo eccedente Monsignor Ognardo Tanasini, non solo per la sua presenza ma soprattutto per l'aiuto e la fiducia di cui ci ha fatto grazia. Ringrazierai anche al nostro parco, non soltanto per la fiducia ma per il supporto che ci ha sempre dato e per averci molto spesso anche sopportato. Grazie alle autorità civili presenti e quindi al nostro sindaco Giorgio Costa, accompagnato da alcuni membri della Giunta e rappresentanti del Consiglio Comunale d'Utto, alle autorità militari dell'Arma dei Carabinieri, alla sovraintendenza di cui è rappresentata la dottoressa Angela Lacrocon, responsabile per i beni artistici e storici, e l'architetta Francesca Passano, responsabili per i beni architettonici del paesaggio. Un importante grazie al dottor Pierluigi Minari, vicepresidente della Fondazione Carice, che ringraziamo di cuore per il generoso contributo, parliamo di 70.000 euro, che ha concesso la nostra associazione. Ringraziamo anche il rappresentante della Fondazione Cattolica Assacolazioni, che ha erogato un contributo di 12.250 euro, che ci ha permesso di restaurare la statua di nostra signora Carabinieri, il primo albare a nostra destra. Desidero ancora ringraziare veramente le imprese e i restauratori che hanno messo a disposizione tutta la loro competenza per appellire la nostra Chiesa, quindi tutti i volontari, che sono stati tanti, che hanno donato molto del loro tempo in questi due anni. Ancora non posso non soffermare un istante per esprimere tutta la nostra riconoscenza a enti, associazioni, club, aziende e privati cittadini, parrocchiali non, che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno per iniziare e proseguire i lavori. Sono due notizie sui lavori, alcune tracestazioni. Abbiamo utilizzato per i lavori due futuri. Dopo l'incendio del 9 giugno del 2010, i parrocchiali di Santa Maria si sono rimboccati le maniche per rendere agibile la nostra Chiesa nel meno tempo possibile, affinché potessero riprendere le funzioni religiose. La parrocchia si è fatta carica da subito dei lavori per la messa in sicurezza della sacristia, quindi il rifacimento del tetto, del pavimento, dei sabanetti e di tutti i lavoretti. Si è fatta carica anche dal rifacimento del piano elettrico, con l'acquisto della posa immopera dei porti miranti che potete vedere e della lucidatura con il credito della cristallizzazione del pavimento del prasmittere della lavata e quindi dell'impianto per l'identificazione delle campagne. Il tempestivo inizio dei lavori è stato possibile grazie a un contributo di 20 mila euro che la loro amministrazione del comune di Napallo, con il senato campodonico, aveva erogato a pochi giorni da vicendio e ad altri 20 mila euro devoluti dalla Curia attraverso i fondi dell'8 per mille. Nel frattempo, attraverso alcuni incontri tra parrucchiani e parrucchi, si è deciso di dar vita a un comitato, per cui si è trasformato in associazione, che potesse essere di supporto alla parrucchia per proseguire nei lavori di restauro delle opere prettamente artistiche. L'associazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale con l'istituzione all'arco regionale dell'associazione di volontariato e ha iniziato ad operare. Nel programma che si era impegnato a portare avanti, come potete vedere, molte opere sono state portate a finpimento. Mi riferisco al restauro conservativo ed estetico del presbiterio, dico che faccio soltanto degli elenchi, perché poi le restrizioni di lavori era fatte da tecnici qualificabili. Mi riferisco al restauro conservativo ed estetico del presbiterio della Navarra, del restauro dei mobili della sacristia salvata sull'incendio e del restauro della statua di Nostra Signora di Caravaggio. Rimangono ancora da restaurare i due quadri, per esempio, la città di Nostra di Cassione, uno standardo che è in un locale attivo e la strada della nostra senata assurda che porteremo il 15 agosto in processione e che subito troppo verrà portata nel laboratorio di restauro del centro. Manta, come vedete, il quadro del nostro signor del rosario che attualmente è il lavoratorio regionale di restauro della città, che è la regione dei sedi e ne ha a restaurare la città. Possiamo quindi ritenerci a un punto per quanto riguarda i lavori, ma non possiamo dire altrettanto per il bilancio. I dati li potete vedere in tabelloni fuori, però parlo a tempo della chiesa. Noi però non ci perdiamo l'anno, confidiamo nella provvidenza e in tutte le persone di buona volontà, quindi anche in tutti voi, affinché possiamo ottenere aiuti che ci permettano di dormire sonni e tranquilli e di terminare meglio e presto i nostri lavori. Grazie.